Ciao a tutti, oggi vi presentiamo la nuova collezione di guanti moto off-road di Liat. I guanti Liat sono ideali per soddisfare le esigenze degli appassionati off-road, grazie a un mix di protezione e comfort per i più grandi e per i più piccoli. I 4.5 Lite offrono una protezione di altissima qualità. Il palmo in nano grip consente di mantenere la massima sensazione di sintonia con il manubrio. I 3.5 Lite sono caratterizzati da una nuova protezione super sottile in gel Airflex. Il palmo in micro grip ultra resistente garantisce un'impugnatura sicura sia in condizioni di asciutto che di bagnato. I 2.5 X-Flow sono caratterizzati da un tessuto ventilato e leggero. Per offrire maggiore protezione e sicurezza anche in caso di impatti, sono dotati di rinforzi in brush guard sulle dita e sulle nocche. I guanti da moto 1.5 e grip R sono il risultato di un'eccellente combinazione tra comfort e protezione. Sono talmente leggeri e sottili da essere quasi impercettibili. Scegli il guanto che preferisci sul nostro shop online e nei migliori negozi di abbigliamento moto. Scegli il guanto che preferisci sul nostro shop online e nei migliori negozi di abbigliamento moto.